La prima conversazione con una ragazza è fondamentale è proprio l'elemento che fa la differenza tra l'essere considerato un uomo con il quale vale la pena investire del tempo o essere visto come una persona con cui non perdere tempo eccoti quindi alcune percezioni che devi andare ad instillare nella ragazza durante la prima volta che ci parli dal vivo 1. Relax La ragazza deve percepire che sei tu perfetto agio perché così lo sarà pure lei non vuole avvertire che tu la consideri più in alto una sorta di divinità oppure che la reputi inarrivabile per qualche vago motivo normalizza la tua visione di lei stai tranquillo e pensa che stai parlando con una persona umana come te 2. Curiosità Le donne vogliono parlare con uomini curiosi e desiderosi di conoscerle ma non con uomini viscidi che non aspettano altro se non mettere la carne tra i denti ossessione per i dettagli amico mio facci l'abitudine impara a non farti sfuggire nulla osserva la ragazza in ogni sua sfumatura sorriso, voce, orecchini, rossetto, scarpe, borsa, energia, camminata, accolciatura, vestiti, mani, trucco, ciglia, educazione, eccetera eccetera non devi farti sfuggire nulla devi bramare dalla voglia di sapere cose su di lei che vanno oltre alla sua taglia di reggiseno 3. Originalità le donne impazziscono per gli uomini originali perché rappresentano per loro fonte di novità e di continue emozioni farsi percepire come uomini originali in prima conversazione è veramente semplice ti basta sapere confezionare e impacchettare le informazioni su di te in modo particolare 4. Ascolto le donne vogliono essere ascoltate per far sentire ascoltata una donna devi prima di tutto darle la tua attenzione quindi ad esempio metti via il cellulare mentre parli con lei e concentrati su quello che dice se sarai in grado di fare delle domande accorte e non affatto banali la ragazza si sentirà ascoltata e questo farà sì che percepisca il tuo interesse anche per la sua persona e per la sua vita 5. Intelligenza intelligenza batte bellezza 1 a 0 un uomo in grado di affascinare la testa di una donna è molto più appetibile di un uomo in grado di farla eccitare per qualche minuto l'effetto bellezza si spegne in fretta mentre l'effetto testa dura molto più a lungo falle capire che sei un uomo dotato di materia grigia attraverso delle consistenti riflessioni sugli argomenti che tratterete durante la prima comunicazione più i tuoi pensieri saranno raffinati e di valore più lei ne sarà allettata grazie a tutti grazie a tutti